buongiorno a tutti amici di cani.it io sono il dottor valerio guiggi medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione del cane in questo video ci occupiamo di una domanda molto frequente che mi viene posta dai proprietari di cani riguardo ovviamente la loro alimentazione la domanda è un alimento con troppe proteine può far male al mio cane la risposta in linea di massima è no l'eccesso proteico non fa male al cane come non fa male al gatto andiamo a vedere perché ad oggi ci sono tantissimi proprietari che pensano che l'eccesso proteico faccia male al cane tanto quanto la carenza ora la carenza proteica lo sappiamo tutti è un problema per il cane e per il gatto questo perché se mancano le proteine mancano un po i mattoni dell'organismo bisogna considerare che le proteine non sono utili solamente per la rigenerazione dei muscoli ma sono utili per il corretto funzionamento di tutti gli organi di tutti i processi dell'organismo del cane del gatto è per questo che non bisogna mai scendere sotto una certa soglia che è diversa tra il cane e il gatto quando facciamo un'alimentazione per i nostri animali ma l'eccesso cioè dare troppe proteine è un problema nello stesso modo oppure non ci sono evidenze che questo possa danneggiare in qualunque modo il nostro cane o il nostro gatto il fatto che molte persone credano che l'eccesso proteico faccia male e nello specifico danneggi i reni degli animali domestici è una reminiscenza del passato si pensava infatti negli anni 80 e 90 che l'eccesso di proteine potesse causare dei danni renali ora la medicina veterinaria come del resto anche la medicina umana e tutta la scienza va avanti e i nuovi studi effettuati negli ultimi anni hanno dimostrato inequivocabilmente che l'eccesso proteico non fa male né al cane né al gatto ovviamente quando il cane e il gatto sono giovani o adulti e sono sani il ciclo delle proteine nell'organismo infatti è diverso rispetto a quello dei carboidrati o dei grassi quando un cane un gatto mangiano dei carboidrati o dei grassi infatti utilizzano la parte che serve di cui c'è necessità istantanea mentre il resto quella non utilizzata viene accumulata in particolare nel fegato per gli zuccheri nel tessuto adiposo per i grassi questi elementi nutritivi rimangono in questi organi e verranno poi utilizzati nel momento in cui c'è necessità di nutrienti per le proteine questo discorso non vale le proteine infatti vengono assorbite vengono scomposte nell'apparato digerente quindi vengono ricomposte nei vari organi dell'organismo per andare a svolgere la loro specifica funzione che varia a seconda dell'organo in cui la proteina viene portata se il cane o il gatto ha mangiato troppe proteine quelle in eccesso però non vengono accumulate ma semplicemente vengono distrutte ed eliminate con le urine che è la via di scarto delle proteine in eccesso questa del resto è la fine che fanno anche le proteine che sono state utilizzate dall'organismo ma che cominciano a invecchiare e non servono più vengono sostituite da proteine nuove e quelle vecchie finiscono nell'urina come prodotto di scarto questo significa che se noi forniamo tante proteine al nostro cane o al nostro gatto in realtà per lui non sarà un problema perché queste proteine semplicemente verranno eliminate verranno processate dal fegato e poi eliminate tramite i reni quindi in realtà è esattamente uguale fornire la quantità minima necessaria per non andare in carenza a un cane o a un gatto cucciolo o adulto di proteine oppure fornirne un quantitativo maggiore questo perché se il cane è magari molto movimentato quindi ha bisogno di quelle proteine in più beh otterrà sicuramente dei vantaggi se il cane però è un cane sedentario non fa particolare attività fisica quindi ha bisogno di meno proteine rispetto a quelle che gli diamo fondamentalmente quelle in eccesso verranno eliminate la percentuale la quantità di proteine negli alimenti è molto diversa da alimento a alimento per motivi infatti principalmente commerciali è l'azienda che fa l'alimento a cui non conviene mettere tante proteine perché essenzialmente le proteine costano più dei carboidrati e quindi mette meno proteine sostituendoli invece con più carboidrati per le aziende manciministiche nonostante nessuna dica chiaramente che l'eccesso proteico fa male beh in realtà il fatto che la persona compri un alimento con meno proteine è un vantaggio dal punto di vista economico quell'alimento gli è costato meno gli alimenti che invece hanno una percentuale proteica maggiore rispetto alla media sono generalmente alimenti di qualità superiore perché per mettere più proteine che sono più costose devo togliere spazio ai carboidrati che invece sono molto meno costosi e in questo modo beh l'azienda che fa l'alimento ha un guadagno dal punto di vista della salute però se un cane o un gatto è piuttosto sedentario è comunque sempre conveniente dare un alimento che abbia molte proteine questo perché l'eccesso viene eliminato rispetto invece all'alimento che abbia molti carboidrati e molti grassi perché vengono accumulati e vanno a formare il tessuto adiposo e visto che il cane già è sedentario andare a incrementare la formazione di tessuto adiposo predispone al sovrappeso o all'obesità con le relative conseguenze ma per queste parole non dovete fidarvi di me che sono un veterinario perché sono un veterinario quindi in quanto veterinario ma dovete fidarvi perché vi cito le fonti scientifiche da cui ho preso quello che sto dicendo le fonti ve le mostro vi mostro la copertina e vi mostro la pagina precisa da cui ho preso le informazioni quindi se qualcuno volesse leggere volesse approfondire questo è un testo medico veterinario sicuramente non alla portata di tutti ma è un testo serio un testo le cui informazioni sono basate su studi scientifici realmente effettuati la situazione che mi capita spesso con le persone che mi contattano sia online che offline è questa mi sono iscritto al gruppo facebook x dove l'esperto pinco pallino mi ha detto che l'eccesso proteico fa male no la mia risposta generalmente è questa chiedi a pinco pallino presunto esperto di citare le fonti scientifiche perché se pinco pallino ti cita una fonte scientifica una fonte seria una fonte valida potrebbe anche avere ragione perché al solito la medicina va avanti e questo potrebbe significare che nell'ultima settimana è stata fatta una scoperta di cui io non sono ancora al corrente è possibile ma se pinco pallino non cita le fonti scientifiche e dice no è vero perché lo dico io che ne so no naturalmente quello che abbiamo detto finora ovvero che l'eccesso proteico non è dannoso nel cane e nel gatto vale solamente quando il cane il gatto sono giovani adulti e soprattutto sani questo perché ci sono ovviamente delle situazioni patologiche in cui l'assunzione delle proteine va limitata vi riporto i due esempi più eclatanti più uno a cui nessuno mai pensa ma secondo me è molto importante quando si parla di alimentazione il primo esempio che vi voglio portare è la salute dei reni quando i reni non stanno bene quindi nello specifico abbiamo insufficienza renale che può essere causata anche da alcune malattie per esempio nel cane la leismaniosi il rene non riesce ad eliminare tutte le sostanze di scarto che dovrebbe mettere nell'urina che poi viene espulsa dal cane o dal gatto in particolare il prodotto finale di scarto delle proteine è l'urea urea che è una molecola tossica per il corpo e che deve essere eliminata con l'urina se il rene è in insufficienza renale non riesce ad eliminare bene quest'orea che di conseguenza rimane nel sangue più rimane nel sangue più si accumula più danneggia l'organismo fino arrivare a una situazione terminale quasi mortale che si chiama uremia fornendo meno proteine al cane al gatto quando ha questo tipo di problema verrà prodotta meno urea e quindi il rene debilitato riuscirà comunque ad eliminarla perché ce n'è meno e questo significa che si salvaguarda la salute del rene del cane o del gatto da notare che l'eccesso proteico è sconsigliato nei cani e nei gatti anziani questo perché la funzionalità del rene non viene persa improvvisamente almeno quando abbiamo insufficienza renale cronica ma viene persa man mano e visto che l'età predispone in qualche modo alla perdita di funzionalità renale quando il cane comincia ad essere anziano si tende a ridurre la quantità di proteine proprio per evitare che se rene comincia ad avere qualche problema lo andiamo a peggiorare e soprattutto andiamo a innalzare i livelli di urea nell'organismo anche se non sappiamo precisamente se il cane ha o non ha l'insufficienza renale un altro organo a cui bisogna fare attenzione è il fegato il fegato è un po il centro operativo delle proteine tutti gli aminoacidi che sono le componenti di base delle proteine finiscono subito al fegato quando arrivano dall'apparato digerente ed è lui che le labora il fegato è anche l'organo che produce l'urea quindi il prodotto di scarto che poi viene eliminato dai reni ma che per lo più è prodotto dal fegato l'urea viene prodotta dopo una serie di passaggi ma la molecola immediatamente precedente all'urea è l'ammoniaca il fegato trasforma quindi l'ammoniaca in urea e poi l'urea viene eliminata dai reni ma se abbiamo un'insufficienza epatica quindi un problema più o meno grave al fegato il fegato perderà in parte la sua capacità di trasformare l'ammoniaca in urea in questo caso diventa pericoloso non l'accumulo di urea nel sangue ma l'accumulo di ammoniaca che non viene trasformata in urea e va a portare a quello stato che si chiama iper ammoniemia che può portare a problemi anche abbastanza gravi sia nel cane che nel gatto ovviamente questi sono i due esempi eclatanti in cui si utilizza una dieta ipoproteica ce ne sono anche molti altri che però vanno presi in considerazione in base alla malattia che colpisce il cane o il gatto questo significa che se il vostro cane il vostro gatto è malato specialmente se la malattia è cronica quindi è prolungata è sempre importante avere un contatto con un veterinario che si occupi di alimentazione perché l'alimentazione è una vera e propria terapia e può fare la differenza tra mantenere lo stato di salute e peggiorarlo nel decorso della malattia a fianco ovviamente delle cure specifiche farmacologiche che fa il vostro veterinario infine voglio parlare un attimo dell'ultimo caso a cui nessuno pensa mai abbiamo visto che l'eccesso proteico non è dannoso in linea di massima ma un alimento complementare che è composto quasi per la totalità da proteine può andare bene per il mio cane o il mio gatto ovviamente no ne abbiamo parlato nello scorso video ma il problema in questo caso non è l'eccessiva presenza di proteine un cane potrebbe anche mangiare il 100 per cento di proteine e sopravvivere comunque ma il problema è che mancano gli altri nutrienti a quel punto quindi io non posso nutrire un cane con un alimento che contiene soprattutto proteine ma non perché le proteine siano troppe ma perché sono pochi gli altri nutrienti quindi in carenza proteica non ci va sicuramente ma va in carenza di tutti gli altri nutrienti e quindi ha problemi diversi ovviamente quindi bisogna stare nei limiti l'eccesso proteico non è dannoso ma quando controllate un'etichetta dell'alimento per cani o per gatti considerate anche tutti gli altri componenti che siano almeno in quantità minima per le necessità del vostro cane o del vostro gatto bene anche per oggi abbiamo concluso mi rendo conto che ho fatto un video più specifico rispetto a quelli che faccio di solito e abbastanza tecnico ma visto che ci sono molte persone che parlano degli eccessi proteici come se fossero il diavolo e visto che molti me lo chiedono e soprattutto visto che è un mito che è duro a morire beh ho ritenuto opportuno dedicare un video specifico a questo argomento voi che cosa ne pensate amici di cane punto it siete tra quei proprietari che avevano paura dell'eccesso proteico e quindi magari continuavano a dare alimenti più scadenti al proprio cane per evitarlo oppure sapevate già questa cosa e quindi fornivate l'alimento più proteico senza preoccuparvi troppo potete farmelo sapere qui nei commenti di youtube oppure sulla pagina facebook se state vedendo il video su facebook io vi ricordo che sono a disposizione per consulenze alimentari e nutrizionali link lo trovate qui sopra se siete su facebook qui sotto se siete su youtube e vi ricordo anche che una volta a settimana con cadenza purtroppo un po irregolare faccio delle live su cane punto it dove potete farmi in diretta tutte le domande che volete riguardo all'alimentazione alla nutrizione del vostro cane io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti